Condizione primaria per riaccostare gli italiani alle istituzioni e intendere la politica come servizio al bene comune, patrimonio di ognuno e di tutti. È necessario ricollegare alle istituzioni quei tanti nostri concittadini che le avversano lontane ed estranei. La democrazia non è una conquista definitiva, ma va inverata continuamente, individuando le formule più adeguate al mutamento dei tempi. È significativo che il mio giuramento sia avvenuto mentre sta per compiersi il percorso di un'ampia e incisiva riforma della seconda parte della Costituzione. Senza entrare nel merito delle singole soluzioni che competono al Parlamento nella sua sovranità, desidero esprimere l'auspicio che questo percorso sia portato a compimento con l'obiettivo di rendere più adeguata la nostra democrazia. Grazie. Grazie.